Cancellato Uomini e Donne dal palinsesto, ecco la scelta della De Filippi Uomini e Donne viene cancellato dal palinsesto di Canale 5, ecco cosè successo. . Perché oggi Cancellato Uomini e Donne non va in onda su Canale 5? E questa la domanda che si sono posti i tantissimi spettatori della trasmissione di Maria De Filippi che questo pomeriggio sintonizzandosi alle 14. . . 45 circa su Canale 5 hanno avuto modo di vedere che al posto del dating show Mediaset era in onda una nuova puntata della soppopera Una vita che ha coprito tutta la fascia oraria che normalmente vede protagonisti i personaggi della trasmissione sentimentale della De Filippi. . . Sospesa la programmazione di Uomini e Donne di Oggi 26-3? Ebbene questo pomeriggio Uomini e Donne non è stato trasmesso su Canale 5 in segno di rispetto nei confronti di Fabrizio Frizzi. . Come avrete avuto modo di leggere sui giornali e ascoltare in televisione, questa mattina il conduttore volto simbolo di Rai 1 ci ha lasciati alletà di 60 anni. Una morte a dir poco spiazzante che ha lasciato senza parole tutto il mondo della televisione e in generale dello spettacolo. Particolarmente addolorata dalla notizia della morte di Fabrizio Frizzi, video, anche la conduttrice di Uomini e Donne. . E' stata proprio Maria De Filippi che in queste ore ha diramato un comunicato stampa ufficiale in cui ha fatto sapere che oggi ha scelto con la casa di produzione fascino di non andare in onda con una puntata registrata del suo dating show, in segno di rispetto nei confronti di Fabrizio e della sua famiglia che in queste ore è addolorata. . Ecco perché Maria De Filippi ha sospeso Uedì di oggi. . Una scelta molto matura da parte della conduttrice di Uomini e Donne che oggi non se l'è sentita di andare in onda lo stesso in questa giornata così difficile per tutti coloro non solo che fanno televisione ma anche per quelli come noi che la televisione la raccontano. . Una giornata brutta, di quelle che vorremmo non arrivassero mai, perché Fabrizio Frizzi è il conduttore simbolo della televisione generalista, perbene, elegante, umile e grande professionista. . E' stato così doveroso che oggi la televisione esuberante e spesso sopra le righe come è Uomini e Donne si fermasse in segno di rispetto nei confronti di Fabrizio. . Video, la The Filippi con Uomini e Donne dovrebbe tornare in onda nuovamente domani 27 marzo con la nuova puntata del Trono Classico, così come ha anticipato agli spettatori social autrice Raffaela Mennoia sulla sua pagina Instagram. . Oggi, quindi, niente Uomini e Donne, la televisione, anche quella commerciale, si è fermata in segno di rispetto nei confronti di un uomo perbene come Fabrizio Frizzi. . .